Quindicesima sconfitta in campionato, ottava all'Adriatico, la prima della gestione Grassadonia. Purtuttavia il match con la spalla è stato pesantemente condizionato dalla disastrosa direzione di La Penna di Roma 1 e dalla sciocchezza di Mirko Drudi che ha lasciato i suoi compagni in dieci per più di un tempo. Eppure squadra viva in partita sino alla fine, ma con gli arci noti limiti negli ultimi 16 metri. L'attacco è povero, non un problema da poco, Odgaard si è sbattuto, ha fatto quel che ha potuto, Giannetti, Seter e Galano, entrato nel finale, non sono al 100%, una sola conclusione per altro centrale a 6 minuti dall'epilogo. Le distanze dai play-out sono rimaste inalterate, sempre 4 i punti di ritardo dal Cosenza sconfitto in casa dal Frosinone. Insomma, crederci è un obbligo. Piano partita, attendere e ripartire. Oggi i Biancazzurri non possono fare altro. Questo non significa erigere barricate o fare catenaccio, ma interpretare le gare in modo intelligente. Ovvero non subire gol, un'impresa, ma ultimamente sta riuscendo, restare in partita sino alla fine, provando a vincerla. Di fronte c'era la SPAL, squadra in ritardo rispetto alle previsioni, ma di spessore e grande qualità a specie a centrocappo. Palleggio e possesso palla, le peculiarità dell'undici di Marino, che però sa anche strappare e accendersi negli spazi. In sintesi, se ti alzi troppo rischi di prendere le imbucate. Purtroppo però arriva l'errore a difesa schierata, a sbagliare Busellato, ma il rigore trasformato dall'ex Valoti è un abbaglio dell'arbitro. Ma ora, sfuggito a Busellato, cerca il contatto con Scognamiglio, che resta fermo e non può smaterializzarsi. Allo scadere del primo tempo ci mette molto di suo anche Drudi. Niente buonsenso da parte del pessimo La Penna, ma quando sei già munito e ti giochi la vita, devi evitare di cadere nel tranello della provocazione. Sconfitta, insomma, figlia di episodi, di errori e di una direzione arbitrale a dir poco infelice. Non ha affatto convinto il metro adottato dal fischietto Capitolino nella gestione dei cartellini, tutt'altro che equanime. Ma la squadra corre, lotta e senza dubbio viva ha soprattutto un'identità. Non c'è motivo di cambiare sistema di gioco. La difesa 4, scaturita dagli eventi, richiederebbe del tempo che comincia a scarseggiare. Avanti, insomma, con la linea 3, ma con due punte da altrettanti esterni. Sperando che gli attaccanti crescano di condizione, bisognerà probabilmente rischiare qualcosa in termini di qualità, specie a metà campo. Per essere altresì pericolosi, servirà anche qualche soluzione su palla inattiva. Sabato prossimo, alle 14, a Lignano, sabbia d'oro sul campo del Pordenone. Friulani usciti indeboliti dal mercato di gennaio pesa la cessione di Dio, soprattutto in crisi di risultati. Nel girone di ritorno, 5 punti, appena uno con un solo gol fatto nelle ultime 5 partite.